La settimana è cominciata nel peggiore dei modi per la nostra comunità. Ci siamo svegliati stamattina con questa terribile notizia di questa ragazza che è mancata in questa circostanza così tragica. Piange tutta con Selvi accanto alla famiglia di Arianna Cuccato. Avrebbe compiuto 17 anni tra pochi giorni, 10 agosto, Arianna, una giovanissima donna solare con tanti interessi, studentessa appassionata, impegnata in numerose attività. Impegnata nella vita sociale, nel patronato, nella parrocchia, era un'animatrice dei centri estivi proprio in questi giorni. Quindi certo tutte le morti sono drammatiche, ma questa colpisce molto perché è una giovane vita che aveva una prospettiva fantastica davanti a sé e colpisce non soltanto la sua famiglia ma tutta la comunità. Di Conselvi anche i quattro giovani che si trovavano nella Fiat Punto uscita di strada sulla Monserice Mare. Arianna lascia la mamma e il papà, una famiglia conosciuta la sua che conserve e gestisce una vetreria da decenni, una famiglia che sta vivendo un dolore che non si può descrivere, a cui l'amministrazione ha voluto portare un saluto. L'ho incontrato questa mattina per portargli un segno di vicinanza da parte di tutto il nostro paese, la nostra comunità, ma mi ha colpito moltissimo la sua compostezza, la grande dignità con cui mi ha raccontato qualche episodio così velocissimamente della vita sua e di sua figlia. L'amministrazione, il comune, in rappresentanza di tutta la cittadinanza farà sentire in ogni modo, come ho detto al padre prima, la sua presenza e la sua vicinanza. L'amministrazione, il comune, in rappresentanza di tutta la cittadinanza